Sono giornate durissime, soprattutto siamo in preda alla confusione più completa. Dopo un anno in cui pensavamo di aver riguadagnato la stabilità. Ci aspettiamo che sicuramente chi può prendere delle decisioni le prenda una volta per tutte e ci tolga da questa situazione, da questo paradosso in cui siamo finiti. Un giorno di sciopero, due di presidio di fronte al Tribunale di Arezzo, poi un altro tavolo convocato dalla Regione. Nel mezzo la decisione che il CDA di FIMER di Terra Nuova Bracciolini, da mesi inconcordato di continuità, dovrebbe prendere sul futuro dell'azienda. È importante essere qui perché noi vogliamo far capire che i lavoratori sono stanchi, esasperati, disperati, perché c'è lavoro, c'è portafoglio ordini clienti, c'è un problema che ormai è conosciuto, è quello che mancano le risorse per portare avanti l'attività industriale. Siamo a conoscenza che c'erano dei fondi, che entro il 31 di marzo, come era stato preventivamente chiesto il Consiglio di Amministrazione dovesse scegliere, quel Consiglio di Amministrazione ha scelto, quindi non si capisce perché ci sia ancora necessità di ulteriore tempo. È infatti il 28 aprile la data cerchiata in rosso sul calendario, entro la quale il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà esprimersi sulle due offerte arrivate sul tavolo, una già formalizzata sarebbe quella di Greybull, fondo legato a McLaren, l'altra riguarderebbe il fondo Clementi che si era già avvicinato a Fimer. Quello che noi vogliamo dire, la nostra istanza, è che non c'è più tempo. La finanza d'emergenza è stata sospesa, già ci preoccupiamo di se e come lavoreremo la prossima settimana. Quindi a oggi, un giorno o due giorni in più, per noi organizzazioni sindacali, fanno la differenza e per i lavoratori anche. Per cui già da domani noi ci aspettiamo delle notizie. 280 posti di lavoro a rischio senza contare l'indotto. Vorrebbe dire in questo momento storico dell'Italia, vorrebbe dire una tragedia, soprattutto per persone che hanno una certa età, che magari al tempo del 93, che ti ho detto prima, avevano la possibilità di trovare lavoro facilmente e adesso sarebbero difficilmente riposizionabili. Nel frattempo lo stabilimento pian piano si sta spegnendo. Noi ci siamo ridotti di oltre il 50% come maestranze e nonostante ci sia stata questa emorragia, parecchi ci hanno creduto fino alla fine. Tutte queste speranze in questo momento rischiano di essere disattese. Una volta persa la fiducia dei lavoratori, ovviamente tornerà a svuotarsi questa azienda e rischierà di rimanere come una realtà che non va da nessuna parte.